Ciao bellissimi e benvenuti in questo nuovo video domenicale. Oggi ci troviamo nel parco del Molentar, giusto che è un parco che si trova a Cagliari ed è un parco regionale di grande importanza. È ritenuto una delle zone umide più importanti d'Europa e all'interno possiamo trovare una fauna composta da fenicotteri, da gormorani, ma anche da tartarughe. Speriamo che non siano timidi. Andiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Purtroppo il nostro giro al parco termina qui. Abbiamo visto poco, anche se però era prevedibile perché qui è così, non è detto che riesce a trovare tutte le specie. Spero che il video vi sia piaciuto, qua tira sempre vento, la Sardegna Sud è sempre ventuosa. Dicevo, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e lasciate un commento qui sotto. Ciao ragazzi!